Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi finalmente riesco a farvi l'unboxing di Insondabili, gioco della Fantasy Flight Games da 2 a 4 giocatori, gioco cooperativo-competitivo, che mi piace veramente molto, infatti era uno dei giochi che attendevo maggiormente, edizione italiana a cura di Asmod Italia, che io ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione. Gioco veramente molto interessante e nell'ambientazione di Lovecraft e di Arkham Horror e tutto quello che ci ruota intorno. Ve ne parlo a breve, dopo la sigla. In questo video di oggi, semplice unboxing, quindi il primo video è sempre un unboxing dei giochi di maggior successo, comunque quelli che aspettavo maggiormente, vi faccio vedere cosa c'è nel contenuto di questa scatola, che vi ricordo essere un gioco ambientato a bordo di una nave, dove voi sarete dei passeggeri che dovranno fare questo viaggio e durante questo viaggio ci saranno dei cultisti nascosti in mezzo a voi, o anche dei Dagoniani, dei figli di Dagon, che faranno il possibile per farvi andare la nave a fondo, per farvela affondare, quindi per farvi, tra molte virgolette, fallire il viaggio e percibarsi, ovviamente, delle vostre anime per il sommo Cthulhu Ftang. È un gioco molto interessante ed è un gioco che ricorda molto da vicino, se vogliamo, Battlestar Galactica, perché le meccaniche sono quelle, devi alla fin fine muoverti insieme ai tuoi compagni, e tuoi soprattutto amici e compagni e possibili alleati d'avventura in questo viaggio, però devi anche cercare di capire se chi ti sta accanto magari è qualcuno camuffato da essere umano, oppure se è un cultista, quindi il classico silone che si muove per sabotare la missione. Vi faccio vedere cosa c'è dentro. Confezione del gioco, bella grande, vediamo il classico mostro tipo Dagoniano degli Abissi, che attacca la nave, guardate bella la scatola, bella grande, e anche classiche colorazioni, mare in tempesta, sempre che piove, nell'ambientazione di Lovecraft, veramente spettacolari. Gioco nell'ambientazione di Arkham Horror. Apriamo. All'interno abbiamo il manuale di gioco, tra l'altro bellino, sembra proprio un classico diarietto di bordo dell'epoca, e ci fa vedere tutto quanto il contenuto che è presente all'interno del gioco, e poi le regole che sono descritte veramente bene, facilmente, e sempre ricchi di esempi, immagini colorate che ci fanno vedere regola per come va applicata, quindi anche di chiarissima e facilissima lettura. Abbiamo, lo fa sempre la Fantasy Flight, non si smettisce mai, un compendio delle regole, quindi se durante una partita non vi torna qualcosa, andate direttamente in questo manuale, dove c'è scritto tutto, senza doverla andare a ricercare nel regolamento. Il De Plane dei romanzi che Asmode sta per portare in Italia, e che io non vedo l'ora di presentarvi uno dopo l'altro, perché, ad esempio, come vedete qui, l'ultimo rituale è questo qui che ci ha mandato Asmode, che vi farò vedere in un successivo video, ve ne parlerò, e sono i romanzi italiani della serie di Arkham Horror, tradotti appunto in italiano, che io non vedo l'ora di leggermi tutti quanti, perché sono veramente spettacolari. Poi, qua sotto, abbiamo tutti quanti i personaggi, che non sono fisici, non c'è la miniatura in 3D, ma a parte si possano tranquillamente pimpare, sono riprodotti su cartuccine, sono tutti quanti i personaggi che potremmo utilizzare, e poi tutti quanti i vari token per la nave, per il timone e quant'altro. Abbiamo poi le plancettine, o meglio, il contapunti, che vanno a ricordare le scorte a bordo della nave, e questo veramente ricorda da morire, come vi ho detto da vicino, Battlestar Galattica, tipo l'acqua, il cibo, il carburante, cose del genere, e da quest'altra parte, che poi ve lo farò vedere meglio nel prossimo video, nel Cosa ne penso, c'è direttamente tutta quanta la nave, col tabellone e con le varie zone che sono tutte quante numerate. mazzi di carte all'interno, in tutti i giochi della serie di Arkham, soprattutto il gioco di carte, ma in altri, anche le case della follia, ci sono sempre un mucchio veramente di mazzi e di carte, si basa praticamente tutto su quello, un po' di standi in plastica, un dado, e schede dei personaggi, schede dei mostri e quant'altro. E poi il classico fondo qua sotto, dove uno, se non sta attento, rischia di perdersele, che guardate che figata, per quanto i personaggi del gioco sono riprodotti sugli standi, quindi sul cartoncino, i mostri sono, guardate bello, in plastica, e sono fatti da paura, guardate questo qui gigante, questo dagoniano, guardate questo mostro gigantesco che sta uscendo dal mare in tempesta per attaccare la nave, cioè, bellissimo veramente, e poi ci sono questi piccoletti, che sono i figli di Dagon, e fa un po' strano onestamente vedere che questi li hanno fatti bellini così in plastica, mentre i personaggi principali col cartoncino, però va bene uguale, anche con gli standi è lo stesso. Questo ragazzi, era tutto quanto il contenuto del bellissimo Insondabili, il gioco che stava tendendo veramente da morire, e a breve vi porterò anche il cosa ne penso. Ciao a tutti, alla prossima!